Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi questo paio di orecchini, eccoli qui, che ho battezzato Orecchini Horus, e ve li mostro più da vicino. In sostanza con essi partecipo al contest indetto da Perline Bijoux, dal sito che vende appunto materiale creativo, e il contest richiedeva di partecipare con una creazione inedita che prevedesse l'utilizzo del Super Duo. Appunto io ho creato questo modulo, ve lo faccio vedere un pochino meglio. Allora, sul retro come potete vedere ho utilizzato le Super Duo, si apprezza meglio appunto dal retro della lavorazione, di questo bellissimo color sul beige, con tutte quante screziature un pochino più ambrate, dorate. Ho utilizzato le perle da 4 mm qui al centro, e da 3 mm qui sul profilo esterno. Ho utilizzato il Bicono Swarovski da 4 mm Crystal AB, le Rocaille 15.0 bronzo, le Rocaille 11.0 bianche, e le Delica 11.0 sempre sul color bianco, bianco-avorio. Ho inoltre utilizzato dei cipollottini piccolini qui davanti per creare questa sorta di decorazione a fiorellino, e poi ho montato il tutto su questi perni filigranati dorati. Se gli orecchini vi piacciono potete votarli sul sito, io vi lascerò giù nell'info box il link diretto che vi porterà alla foto della mia creazione sul sito, e voi se volete appunto, se vi piacciono, potete votarli cliccando su Vota questa creazione, mi sembra che ci sia scritto. Se lo farete vi ringrazio tantissimo già da adesso, e nulla, un bacione grande, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dimenticavo, se la creazione vi piace, e ne volete il tutorial, ditemelo giù nei commenti, così almeno saprò se registrarlo oppure no. Ora è davvero tutto. Ciao!